bella ragazzi ci mi grazie siamo tornati con un nuovo episodio di DRO POKEMON vabbè iniziamo siamo tornati con un nuovo episodio di DRO POKEMON disegna il pokemon e lui comincia già subito già subito ci sta bene perché va bene ma che cos'è questa palla che cos'è o cos'è o cos'è che è la cresta che è un metallaro è un metallaro eh 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 zitto mamma mia fino a che non parlavi sta venendo benissimo benissimo incredibile mamma mia che cos'è un maiale è un aso di maiale si ma era una bocca è un culo adesso è un cerchio con un puntatore laser dentro attenzione 5 secondi fa le sfumature di grigio anzi di nero puntini puntini vabbè dai io mazza lui era perfetto eh seeking era seeking sbam è bello che a me fambam molto difficili i suoi guarda come sta impegnando non voglio distrarti con il piedino fatato ma che cazzo non lo so vabbè regalo ma che è sta cosa mi spieghi che cos'è belli l'occhi eh ah eh è lui si è pole i vabbè ma io io dovevo disegnare si si no vabbè dai andiamo al prossimo pokemon vabbè che questo devo fare pure così in poco tempo mamma mia tu entra il record in 10 secondi soltanto fare un pokemon ragazzo non ha preso i verdi era un verde c'è la foglia manca una foglia su mamma mia mamma mia xenic xenic mamma mlg lo fa boh boh era victory bell si non si capisce tanto che version ragazzi bello questo mamma mia è pure facile strano sembra un sesso di prima ma non è è vero comunque è un problema con le braccia si ne so fa eh per esempio questa bello dai è venuto bene è venuto bene molto prospettico il disegno ma che è una pokeball eh ma giustamente non è che uno fa l'occhio fa i puntini del coso eh si perchè tanto c'ho tempo per fare tutto no vabbè è un baffo si eri di parecchio vabbè era vileplume quanto era figo sto vileplume difficile vileplume 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 guarda qualcosa la russa vileplume 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 attenzione incredibile mamma mia ma che cazzo scenic numeri 47 78 attenzione cos'è cos'è una murena è una gonda che cazzo vabbè si chiama anguilla è dragonail basta ma 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 no mi sono cascate le palle eeeh 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 mi sono ripreso all'ultimo dai ma che cazzo è ma questi sono locchi eeeh ma andavano tipo qua più o meno eh eeeh vabbè però ha avuto un attimo un problema tecnico eeeh comunque era hunter si si era capito che era hunter non lo faccio vedere perchè sei partito da la cioè non lo so ma che cos'è non riesco a fare è peppa pig non riesco a disegnare non riesco a andare dritto questo che era ma sto facendo un maiale perchè non riesco a disegnare questo coso però guarda guarda il ricciolino vabbè non fa niente slow walk si ci assomiglia vagamente il rosa almeno mamma mia ooooo questo ma come cazzo si fa vabbè questo è easy ormai faccio così si pam 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 ma che Vabbè ha 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 ma che cazzo eeeh eeeh va carone zampe te ronzi capisce no comunque il aereo c'ha un problema con le proporzioni diree terza cap te neanche lo sai Era un Blastoise Senza mani Sì Questo è un amputato È amputato Oh finalmente anche a me un Pokémon facile Ma che cazzo Stai zitto Diciamo che non so buono a faurecchie io Ma che è un topo Tranquillo In effetti si è un topo volante però Più o meno Tipo Busta Un po' di viola Mancano i denti I dentici Bello Diventato un alieno Vabbè Che cosa Lui era Zubat Sì Questo è un favore Vabbè aspettiamo questi 30 secondi Ok Questo Per me Vai Mamma mia Pokémon più difficile mai disegnato Ma la testa è staccata Fammi capire Ora no Ora è staccata Ok Questo non è quei cosi che vanno nel culo No Bello Bello è che lì si impegna Cioè se tu guardate si impegna seriamente Perché non c'è la lingua bifercuta Non lo so Comunque è bellissimo È canz È canz È canz Comunque ragazzi Noi Siamo piaciuto questo video Perché noi ci siamo tagliati troppo È tipo stato uno dei episodi più belli Se vi è piaciuto Lasciate tanti like qui sotto Noi ci vediamo al prossimo video Bella